Sentiamo la storia di Rossella Piazzera, una che questo progetto l'ha vinto. Ho fatto uno stage in uno studio legale di Germania, d'Augur, di due mesi. Mi ha aiutato nell'approfondire la lingua tedesca sicuramente. Infatti poi appena sono rientrata ho conseguito l'esame di tedesco livello B1. Però sicuramente secondo me è un valore aggiunto comunque anche da inserire nel curriculum. Nel senso è un'esperienza che comunque ti arricchisce il curriculum. Mi è servito nel senso che ho avuto l'opportunità di relazionarmi comunque con dei professionisti, con degli avvocati comunque di uno studio estero comunque. In particolare con un avvocato avevo collaborato nella stesura di un articolo sul diritto relativo alla proprietà intellettuale. Purtroppo l'esperienza è stata troppo breve per consentirmi di consolidare il rapporto di collaborazione che si era creato perché ovviamente due mesi sono un po' troppo pochi. Però ti apre sicuramente la mente, ti dà l'opportunità di relazionarti con persone culturalmente diverse da te e di approfondire la lingua. Ti permette di crescere anche personalmente, a livello personale, perché comunque devi adottarti ad un ambiente che non è il tuo, devi uscire un po' dalla tua zona di comfort, devi relazionarti con tante persone diverse da te per cultura.